se state cercando un barbiere o uno chef o un fotografo beh buona fortuna sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto perché fca ha pensato a chi lavora in proprio ai solo dicembre per scegliere bonus impresa il vantaggio dedicato alle partite iva sull'acquisto dei veicoli del gruppo ad esempio su fiat 500 x il bonus di 4.500 euro sul prezzo di listino scopri di più su bonusimpresa.it questo programma è offerto da fidelity international bentornati su blu reti news vediamo insieme le principali notizie della giornata manovra equitagli dopo il dietro fronte di tria ptp un 2019 con tante incognite addio private banking ubi banca massia apre il matrimonio bellingeri lascia i shares per credit suisse cf webinars come prepararsi al nuovo anno archiviato con la smentita di luigi di maio il caso delle possibili dimissioni del ministro dell'economia giovanni tria prosegue il percorso di conciliazione tra italia e un'europea l'obiettivo minimo richiesto da bruxelles un deficit nominale non sopra l'1,9 per cento anche se il vice premier Matteo Salvini sembra inamovibile sul 2,1 intanto il lavoro tecnico sulle possibili revisioni della manovra è chiuso l'obiettivo principale tagliare almeno 4 miliardi di euro alla spesa originariamente prevista intorno ai 16 miliardi per farlo si dovrà rivalutare con attenzione la tassa ecologica sull'acquisto dei veicoli in attesa di capire come si interverrà nel dettaglio su quota 100 e reddito di cittadinanza si dovrebbe anche riapire il capitolo sulla pace fiscale rimossa inizialmente dal decreto ma che potrebbe rientrare con il saldo e lo stralcio delle cartelle esattoriali il 2019 sarà un vero e proprio banco di prova per il debito sovrano italiano bastano pochi dati per capire che la fine del quantitative easing inciderà sulle asse del tesoro in tutto il 2018 l'italia avrà messo sul mercato 45 miliardi di titoli in più rispetto a quelli scaduti ma 39 miliardi saranno stati acquistati dalla banca d'italia per conto della bce ciò vuol dire che il tesoro avrà trovato nell'anno nuovi investitori per soli 6 miliardi nel 2019 ci saranno due novità negative innanzitutto le emissioni in nette saranno in partenza più alte e saliranno a 57 miliardi inoltre neppure un euro aggiuntivo sarà acquistato dall'aerosistema dato che il contributo della bce si limiterà a riacquisto dei titoli scaduti nel quantitative easing per una cifra intorno ai 30 miliardi per l'italia in sintesi l'italia all'anno prossimo dovrà convincere investitori per 168 miliardi di euro a rinnovare l'esposizione inoltre dovrà trovare nuovi acquirenti di bonco durata superiore all'anno per 57 miliardi di titoli includendo anche i bot più facili da collocare per la durata minore le emissioni lorde totali arriveranno a circa 400 miliardi il private banking è il passato i grandi nomi della gestione dei ricchi patrimoni sembrano non voler più usare questo termine ancorato un'area troppo negativa molto meglio parlare di wealth management nome molto più moderno trasparente e sostenibile oltre che vendibile alla presentazione dei risultati di ubs all'investor day di ottobre la d seggior motti ha sottolineato con enfasi benefici derivanti dalla fusione del braccio private banking con il global wealth management nessuna traccia del termine private banking sul sito di credit suisse alto big del settore e queste parole non si trovano più nei documenti di lombardo di epict e von tobel e giulius il private banking è morto è la sentenza spiazzante degli analisi di euro money non siamo interessati a carigio creval ma in futuro credo che sia inevitabile un ulteriore passo di concentrazione del sistema bancario parola di victor massia amministratore delegato di ubibanca il manager aperto la possibilità che la banca da lui guidata possa dare vita a un'aggregazione con qualche altro istituto anche se non ci sono al momento potenziali partner in vista ubibanca non aspira neppure ad acquisire alcuni gruppi in cerca di compratori come appunto il credito valtellinese e la cassa genovese per quanto ci riguarda prenderemo in considerazione solo agregazioni che creeranno valore per i nostri azionisti e saranno caratterizzate da semplicità nella governance ha concluso massia emanuele bellingeri già numero uno di i shares in italia sarà il nuovo responsabile italiano asset management di credit suisse lo comunica alla società in una nota bellingeri vanta un'esperienza consolidata e riconosciuta di oltre 20 anni nell'industria del risparmio gestito in credit suisse prenderà la guida di una squadra di oltre 30 persone la nomina di emanuele beningeri ancora una volta conferma l'impegno e la capacità di attare talenti che credit suisse italy continua a dimostrare insieme alla nostra ambizione di continuare ad espandere il nostro business in italia afferma stefano vecchi amministratore delegato di credit suisse italy i cf webinar cicli di incontri organizzati da unicredit con la collaborazione di blu red in danno appuntamento al prossimo martedì 11 dicembre per l'ultima puntata dell'anno al centro di dibattito un bilancio dell'anno passato le prospettive per il 2019 gli incontri danno la possibilità di approfondire il rapporto tra consulenti finanziari e certificati strumenti sempre più in voga anche tra i financial planner perché in grado di ottenere rendimenti anche in condizioni di volatilità per tutti i dettagli andate sul sito blu rating punto com passiamo al consiglio del giorno che quest'oggi è eni buy per banca acros con target price di 18 50 euro e apertura in mattinata 13,98 slancio al titolo dalle nuove quote del giacimento di gas nour concesse dal governo egiziano infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del nav a guidare la classifica un prodotto di mogan style e mente ultima posizione per argonaut qui da blu rating news è tutto come sempre che il buon investimento sia con voi questo programma è offerto da fidelity international consulenti finanziari siete pronti parte l'albo aggiornamento contabilità contrattalistica gestione portafoglio blu advisor la piattaforma per i consulenti finanziari prova gratis www.bluadvisor.com www.bluadvisor.com